La Jugoslavia di Tito, un esperimento di socialismo nazionale. Introduzione la Jugoslavia sotto la guida di Josip Broz, meglio conosciuto come Tito, rappresenta un unicum nella storia del socialismo del XX secolo. La sua politica, caratterizzata da un'indipendenza da Mosca e da un approccio nazionale al socialismo, ha creato un modello di Stato che ha resistito per decenni alle tensioni della Guerra Fredda. Origini ascesa di Tito nato nel 1892, Tito fu testimone e protagonista di alcuni dei principali eventi storici del primo 901. Dopo aver servito nell'esercito austro-ungarico durante la Prima Guerra Mondiale, si avvicinò al comunismo, partecipando attivamente alla Rivoluzione d'Ottobre e alla fondazione del Partito Comunista Jugoslavo nel 1920 la Seconda Guerra Mondiale e la lotta di liberazione durante la Seconda Guerra Mondiale. Tito emerse come leader della resistenza partigiana contro gli invasori nazifascisti e i collaborazionisti croati. La sua figura carismatica e la capacità di unire diverse etnie sotto un unico obiettivo di liberazione nazionale lo portarono a diventare il capo indiscusso della Jugoslavia post-bellica la rottura con l'Urseil, socialismo jugoslavo nel 1948. Tito operò una scelta storica, la rottura con l'Unione Sovietica. Questa decisione fu dettata dalla volontà di perseguire una via jugoslava al socialismo, libera dall'influenza di Mosca. La Jugoslavia di Tito divenne così un esempio di socialismo autogestito, con un'economia basata sulle cooperative di lavoratori e un sistema federale che cercava di bilanciare le diverse nazionalità dello Stato. Il Movimento dei Non Allineati Tito fu anche uno dei fondatori del Movimento dei Non Allineati, che riuniva paesi che non volevano schierarsi né con l'Est né con l'Ovest durante la Guerra Fredda. Questa posizione permise alla Jugoslavia di giocare un ruolo di mediazione internazionale e di ricevere aiuti, sia dall'Occidente che dall'Est 2. La Jugoslavia post-Tito e il suo eredità la morte di Tito nel 1980 lasciò un vuoto di potere che, unito alle crescenti tensioni nazionalistiche, portò alla dissoluzione della Jugoslavia negli anni 90. Tuttavia, l'eredità di Tito rimane controversa, da un lato, viene ricordato come il leader che ha garantito pace e stabilità in una regione complessa, dall'altro, viene criticato per le repressioni politiche e per non aver preparato il paese a una transizione pacifica dopo la sua scomparsa. Conclusione La Jugoslavia di Tito rimane un esempio di come un paese possa cercare una terza via tra i blocchi, opposti della Guerra Fredda. Sebbene la sua scomparsa abbia lasciato un'eredità ambivalente, la figura di Tito e il suo esperimento di socialismo nazionale continuano a essere oggetto di studio e riflessione. Questo articolo offre solo un breve sguardo su un argomento molto ampio e complesso. Per una comprensione più approfondita, si consiglia la lettura di opere specializzate e di documenti storici. Nel 1-2-3-4 punto le principali sfide affrontate dall'imperatore Tito durante il suo governo includono riforme amministrative, Tito ha implementato riforme per migliorare la vita del popolo romano, come la remissione di tasse e debiti. Calamità naturali ha gestito la ricostruzione di Roma dopo l'eruzione del Vesuvio nel 79-10, dimostrando la sua capacità di rispondere efficacemente alle emergenze. Politiche interne, si è concentrato sul benessere pubblico, avviando progetti di lavori pubblici e ricostruendo infrastrutture danneggiate popolarità e munificenza. Nonostante le controversie precedenti, Tito si guadagnò la reputazione di essere lì, amore e delizia del genere umano per la sua politica di generosità. Queste sfide hanno contribuito a consolidare la sua immagine di imperatore benevolo e a lasciare un'impronta significativa nella storia romana.